Buongiorno dalla redazione di UD News TV in apertura di questa edizione di pranzo del nostro Tg. Subito il collegamento con la Dacia Arena, con Jacopo Romeo per l'ufficialità della notizia dell'addio di Daniele Prade. A te, Jacopo, buongiorno. Ciao Angela, buongiorno. Buongiorno a te, bentrovati anche i nostri telespettatori. Sì, te l'avevo preannunciato nel collegamento che avevamo avuto poco più di mezz'ora fa. E adesso c'è anche l'ufficialità perché è arrivata la nota ufficiale, Daniele Prade non è più responsabile dell'area tecnica dell'Udinese. La vedete anche in onda, la potete vedere grazie alla nostra energia come sempre puntuale, quella che è la nota, dove viene specificato che di comune accordo, l'Udinese Calcio e l'ex responsabile a questo punto dell'area tecnica, Daniele Prade, non hanno scelto di non proseguire insieme il loro percorso sportivo e professionale. Dunque si apre il futuro, la corsa, tra virgolette, alla successione. Sgombriamo subito il campo. Non c'è un totonomi, non c'è ancora un profilo mirato, individuato, di chiacchiere se ne stanno rincorrendo tante proprio in questi minuti, anche mentre vi stiamo parlando. Ciò che è certo è che le strade del direttore Prade e dell'Udinese si separano. Dopo una stagione travagliata, per via di tanti infortuni, nella quale comunque l'Udinese è riuscito a raggiungere l'obiettivo sportivo anche in anticipo. È arrivata questa scelta reciproca di non proseguire e vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane chi andrà a raccogliere il suo testimone. Ma siccome si trattate di una decisione maturata, negli ultimi giorni non si è ancora programmato, non si è ancora pensato ad un profilo. Dunque andiamo a sgomberare anche il campo a tutto quello che magari si legge sui siti e sui giornali. È chiaro che la società non arriva mai in preparata a un momento del genere e lavora anche sotto traccia. E questo è ovvio perché la società fa la società con grande competenza, come sempre nel caso dell'Udinese. Però per adesso ci prendiamo la notizia, il dato di fatto sia che non sarà più Daniele Prade il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese nella prossima stagione. Grazie allora Jacopo Romeo per questi aggiornamenti. Noi andiamo avanti con la cronaca, una segheria è andata a fuoco questa mattina a Manzano nella zona industriale in via Cadorna. Ingenti i danni ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sentiamo la cronaca nel servizio di Francesca Santoro. E con ogni probabilità all'autocombustione, la causa dell'incendio che ha devastato la GM Legno di via Cadorna a Manzano. Sono bruciati bancali di legna e altro materiale stoccato all'esterno, sotto a una tettoia nel piazzale. Dopo l'allarme, dato da un vicino poco dopo le sei, sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, di cui tre del comando di Udine e uno del distaccamento di Cividale. I danni sono ingenti ma per fortuna non ci sono stati feriti. In breve tempo le fiamme sono state messe sotto controllo, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Siamo intervenuti noi da Cividale e con la prima partenza di Udine, botte e scala. Siamo arrivati in posto per fortuna, siamo riusciti a lavorare bene e veloci da due parti diverse e abbiamo domato l'incendio velocemente. Siamo entrati dentro, spostato i bancali che erano interessati dalla parte esterna all'interno, quindi in un attimo l'incendio era sotto controllo, abbiamo lavorato benissimo. Dicevate che se fosse successo in inverno sarebbe andato a fuoco tutto e sarebbero stati ben più ingenti i danni? Sì, perché visto il caldo le persone in questo momento magari dormono con le finestre aperte o si svegliano presto ed hanno notato il fumo e ci hanno chiamato. Forse d'inverno la situazione era diversa. E questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Cividale, attorno alle 8.20, all'acciaieria Fonderia Cividale per un incendio di Ester Paglie. A innescarlo molto probabilmente alcune scintille provenienti da un pezzo uscito dalla lavorazione ancora caldo e portato all'esterno nel momento in cui è entrato in funzione l'impianto di irrigazione. Lo shock termico delle gocce d'acqua entrate in contatto con il materiale ancora caldo ha generato anche un forte rumore come di un'esplosione che ha allarmato i presenti zona i quali hanno contattato 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco prontamente giunti sul posto hanno spento le fiamme che si stavano espandendo nel vicino fossato. Nessun danno a cose o persone. E sempre per la cronaca i carabinieri di Magnano in Riviera nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso un 56enne autotrasportatore tarcentino alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica con valori prossimi ai 2 grammi per litro. Il veicolo dell'uomo sequestrato è stato affidato alla sorella che giunta sul posto si è messa alla guida per condurre a casa il fratello e il figlio. Ma l'uomo si è infuriato, ha iniziato a spintonare fuori dall'auto la sorella nel tentativo di reimpossessarsi del mezzo e all'intervento dei carabinieri li ha aggrediti provocando ad uno dei militari una lieve lesione. Solo l'uso dello spray urticante in dotazione all'arma dei carabinieri è riuscito a far desistere l'uomo dal suo comportamento aggressivo. è scattato quindi l'arresto. I carabinieri di Cividale del Friuli sono intervenuti invece a Nimis per una lite per futili motivi durante la quale un uomo di 52 anni del luogo aveva minacciato con un coltello da concina un 37enne residente a Tarcento. Il coltello è stato sequestrato e il 52enne è stato deferito all'autorità giudiziaria per minaccia aggravata. Dalla sede alla mancanza di organico la situazione della Polizia Stradale di Udine è drammatica. Questo è l'allarme lanciato dal SAP e del sindacato autonomo di Polizia che ha portato la questione all'attenzione del prefetto. Abbiamo fatto il punto con il segretario regionale Olivo Comelli. Sentiamo l'intervista realizzata da Francesca Santoro. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto per sbloccare la situazione della sede della Polizia Stradale. Oggi c'è l'accordo con la regione che ha individuato una nuova sede nel comune di Pagnaco autorizzata dal servizio nostro tecnico logistico. La regione ha anche stanziato i fondi per ristrutturarla e non si comprende perché la nostra amministrazione stia ancora temporeggiando e continuano i colleghi ad essere in una situazione veramente assurda. In uno stabile promiscuo dove poco tempo fa c'era anche un centro massaggi sotto. La scorsa settimana c'era un disabile. Siccome non c'è né l'ascensore né la piattaforma elevatrice per i disabili hanno dovuto accoglierlo nell'autorimessa per esploitare la pratica. Quindi ritengo che nel 2019 sia veramente assurdo trovarsi in queste situazioni. C'è anche il rischio di perdere dei presidi sul territorio per la Polizia Stradale? Uno l'abbiamo già perso perché come sapete un paio di anni fa è stato chiuso il distaccamento di Tormezzo. A oggi la situazione è molto grave perché mancano in provincia rispetto al 2008 57 colleghi della Polizia Stradale. La sezione di Udine è il fiore all'occhiello con meno 17. Oggi pensiamo che i patuglianti della Stradale di Udine sono in 14 ma 5 devono essere impiegati in sala operativa quindi ne restano nuove da impiegare sul territorio. Con tutti i presenti non riusciamo a impiegare una macchina su tutte le quattro fasce giornaliere. Nel prossimo anno da qua a aprile del 2020 alla Stradale di Udine verranno assegnati solo tre colleghi e quindi la situazione è veramente assurda perché sulla viabilità ordinaria oggi se esce una pattuglia sulle 24 ore è tanto. Postrada chiamata spesso in causa per rilevare incidenti stradali e ci sono alcuni dati forniti dall'European Transport Safety Council che fanno il punto sulla sicurezza stradale in tutta Europa e che ci dicono che il 28% dei decessi per incidenti stradali in Italia riguarda conducenti di motociclette, il 24% e ciclomotori, 4% tra le percentuali più alte d'Italia. E a proposito di incidenti, poco prima dell'una della scorsa notte una donna è finita fuoristrada con la sua auto a Codroipo in via Lattisana, l'auto è finita fuoristrada, ruote all'aria vicino al supermercato Cadoro. Fortunatamente la donna al volante non è rimasta ferita in modo grave è stata comunque portata in ospedale al pronto soccorso. Un altro incidente a Udine in via Levatt, in corrispondenza della rotonda di via Levatt un ciclista che è caduto da solo, anche in questo caso è stato portato in pronto soccorso per le medicazioni, è caduto attorno alle 20.30 di ieri sera. E parliamo adesso della filiera della birra che nella nostra regione è in espansione. Questa mattina a Colloredo di Montialbano un focus organizzato dal cluster dell'agri-food. Sentiamo allora l'intervista al presidente di questo cluster che fa un po' il punto della situazione. Scatta una foto sulla situazione dei birrifici nella nostra regione. Con noi il presidente di Agri-food, Filippuzzi, che è stato incaricato dalla regione di fare un censimento, una fotografia in sostanza del settore dei birrifici, un settore in fermento nella nostra regione. Sì, sicuramente è un settore in crescita che vede già una quarantina di attori fra birrifici agricoli e birrifici di tipo artigianale. Nell'incontro di oggi cosa fate? Spiegate in sostanza le novità delle normative del settore. Ma è un incontro organizzato con la presenza di due direzioni, le attività produttive e la direzione del sull'agroalimentare, quindi agricoltura. Per quanto riguarda sentire i produttori, quali sono le esigenze e la necessità di mettere mano o addirittura rifare una norma di settore. I birrifici provengono da tutto il territorio regionale? Sì, sono birrifici che provengono da tutto il territorio regionale, sia da, voglio dire, si parte dalla montagna per arrivare alla pienura e anche alla zona, diciamo, della bassa. Come mai un settore in crescita? Si ritiene che si possa investire su questo tipo di prodotto? Sì, il settore della birra è un settore che è in crescita in senso generale. Il mercato della birra, sia a livello industriale, sia a livello artigianale, è conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni. È un modo diverso di bere, è un prodotto che viene considerato particolarmente appetibile, per cui anche in funzione di alcune norme nazionali c'è stata un'esplosione dei piccoli produttori. Sono appunto aziende di piccole dimensioni? Prevalentemente sì, sì. Noi in Friuli abbiamo anche la presenza di un birrificio industriale, che è quello di birra a castello, ma qui sono presenti tutti i produttori di tipo artigianale, oppure birrifici agricoli, ovvero birrifici che si fanno la materia prima, la maltano e poi fanno la trasformazione in birra. Birrifici a chilometro zero, potremmo dire? Ma questi sono tutti a chilometro zero, a dire la verità. Secondo me sono a chilometro zero soprattutto per quel che riguarda il consumo, nel senso che producono e vendono prevalentemente sul livello locale. E si è parlato di sanità, ma soprattutto di carenza di medici specialisti nel convegno organizzato dai cittadini a Udine, ospiti del Movimento Civico, guidato da Simone Aliguori, Michelino De Carlo, della direzione provinciale dell'Inps di Udine, Riccardo Rizza, del patronato CISAL. Il convegno ha messo in luce l'impatto della riforma delle pensioni sulle professioni del servizio sanitario. Uno stimolo, ha spiegato Riguori, che è venuto da uno studio dell'Associazione Medici Dirigenti, che ha messo in evidenza come anche in Friuli Venezia Giulia esista una carenza di medici specialistici. Situazione già oggi delicata, che si stima potrà aggravarsi, arrivando al 2025 a toccare quota a 340 unità. Le aree più colpite sarebbero quelle di medicina interna, 120 unità, e terapia intensiva, 76. Nell'incontro queste preoccupazioni hanno trovato riscontro anche negli interventi dei relatori, che hanno fatto il quadro della complessa situazione pensionistica italiana alla luce dell'ultima riforma, meglio conosciuta come quota 100. Questo problema, estremamente grave, ha detto la consigliera Simona Aliguori, deve trovare una soluzione. Nell'immediato, per far gravare meno possibile sulle spalle dei pazienti questa carenza, è necessario dare piena attuazione alla rete tra l'ospedale ad alta specializzazione di Udine, Hub e il territorio, comprendendo in quest'ultimo gli ospedali Spoke di Tolmezzo, Gemona, San Daniele, Cividale, La Tisana, Palmanova e le cure domiciliari nei distretti. Il modello Hub & Spoke, ha sottolineato Liguori, può essere utile a far fronte all'emergenza, perché permette l'ottimizzazione delle risorse e una maggiore efficienza. È chiaro, però, che bisogna da subito agire affinché si risolva il problema in maniera strutturale, nel medio e lungo periodo, tramite l'incremento dei contratti di formazione specialistica e l'entrata al lavoro anticipata per gli specializzanti all'ultimo anno di formazione. Finanziamento di 2,5 milioni di euro dalla Regione al Consorzio di Bonifica Pianura Frulana per la messa in sicurezza del torrente Corno e per il rifacimento del ponte a Basaldella. L'importo, previsto nel piano annuale triennale degli interventi sui corsi d'acqua e delle opere idrauliche, è stato recentemente approvato dalla Giunta regionale. Il Consorzio, di concerto con la Regione, si è attivato per predisporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica di questo primo lotto funzionale che prevede il rifacimento del ponte sud di Basaldella, realizzato su Via Zuliano, ed interventi di manutenzione e ripristino delle opere realizzate lungo l'asta del Cormoro dopo il 1998. La Giunta regionale ha approvato il programma annuale e triennale 2019-2021 degli interventi sui corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza del Servizio Difesa del Suolo sulla rete idrografica regionale. E ancora andiamo a Miramare adesso, perché la Regione è pronta a scendere in campo per preservare l'autonomia di Miramare, messa in dubbio da un'ipotesi di riforma dei musei in discussione al Ministero per i beni e le attività culturali. glielo fa direttamente per voce del governatore Fedriga. Un declassamento, dice Fedriga, costituirebbe una seria minaccia per uno dei siti di maggiore interesse non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in Italia e nel mondo, intaccando la capacità di rispondere con la necessaria efficacia ed efficienza alle molte improrogabili esigenze che si accompagnano alla gestione di un bene così prezioso. Se il Ministro Bonisoli confermasse l'intenzione di revocarne l'autonomia, prosegue Fedriga, la Regione sarebbe pronta a subentrare allo Stato nell'amministrazione del Parco e del Castello di Miramare. E andiamo adesso dalla nostra truppa esterna, andiamo da Francesca Santoro, che si trova a Udine, dove è appena terminata la presentazione della sesta edizione del premio, Silvia Lunelli. Andiamo da Francesca Santoro. Buongiorno Francesca. Buongiorno Angela, con me Walter Filipputti, presidente del consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. È stato appena consegnato il premio Lunelli, la sesta edizione del premio Lunelli. Che cos'è questo premio? Il premio Lunelli è della famiglia Lunelli, che vuole ricordare la figlia scomparsa giovane, che amava la cucina, e vuol dire in poche parole aiutare i ragazzi giovani, cioè gli chef che noi selezioniamo attraverso un esame nelle scuole, ad affrontare il mondo del lavoro. Per farlo, loro stanno circa un anno con noi, cioè all'interno del consorzio, toccano cinque ristoranti, dove stanno due mesi per ogni ristorante. Ci sono stati scelti in maniera che possono affrontare la cucina del pesce, la cucina tradizionale, quella innovativa, e all'interno di questo percorso vanno a visitare le aziende del gruppo, le cantine, con me. Alla fine hanno affrontato anche lo studio del territorio, perché lo chef deve sapere non solo far da mangiare, ma sapere cosa mette nel piatto, da dove viene e come è fatto. Ecco, noi li impostiamo, se sono bravi, poi alla fine sono meritevoli, con la famiglia, decidiamo se mandarli ulteriormente a fare uno stage fuori dal Friuli. Quella, l'ultima che ha finito lo stage, che si chiama Chiara Paoli, è andata a fare lo stage al Tre Stelle Mislang di Davittorio a Bergamo, finito lo stage l'hanno assunta. La prima che ha vinto, che si chiama Aurora, lavora qui al Vitello d'Oro, e quindi tutti gli altri hanno trovato collocazione, grazie a questo percorso. Che ha vinto quest'anno? Gabriel Rossi, lo chiamo Alphysic du Rol, è un ragazzo molto in gamba, ha una capacità di espressione, direi, notevole, e il suo piatto era anche tra i più belli, però per noi va bene anche il piatto, perché lì sono, devono da lì crescere e imparare. Quello che conta è capire quello che hanno dentro, gli stimoli che devono avere e che loro raccolgono da questa sfida. Ecco qui, quindi ai ragazzi quando gli si dà ti ritorna il doppio, sono molto ricettivi, bisogna aiutarli in questo momento attraverso questo tipo di percorso. Grazie a Walter Filipputi, a te Angelo. E noi siamo arrivati agli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, andiamo a vedere allora il consueto servizio curato dall'Ansa che ci fa il punto della situazione. La governatrice dell'Alabama, Key Ivey, ha firmato la legge che obbliga i condannati per reati sessuali contro i minori di 13 anni ad avviare la castrazione chimica un mese prima della scarcerazione ed il trattamento dovrà durare finché una corte non valuti che non sia più necessario. Esiste nel cervello un interruttore molecolare che permette di controllare la paura. Sono i neuroni che sovrintendono all'ossitocina. Pubblicata su Neuron, la scoperta è il risultato di una ricerca europea che potrebbe offrire nuovi strumenti contro i disordini psichiatrici. Kim Jong-nam, il fratellastro del leader coreano Kim Jong-un, ucciso nel febbraio 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, era un informatore della CIA e si era incontrato in diverse occasioni con agenti segreti americani, lo scrive il Wall Street Journal. Le stesse fonti osservano però che Kim Jong-nam, che risiedeva nell'enclave cinese di Macau, era quasi certamente in contatto anche con l'intelligence di altri paesi, in particolare la Cina. E prima del meteo un aggiornamento di cronaca, perché una squadra dei vigili del fuoco di Maniago sta intervenendo in questo momento con due automezzi per soccorrere un boscaiolo ferito sulla strada della Pinciadona, che sale dall'abitato di Claut verso la casera Pradute, sul posto il 118 con un'ambulanza. Siamo in chiusura, allora a largo al meteo, alle previsioni del tempo a cura di Sergio Nordio. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su DNews e TV. Condizioni di variabilità questa mattina sulla nostra regione, abbiamo un po' di instabilità anche dovuta a delle correnti meridionali che hanno portato temperature minime nella notte alte, intorno ai 22 gradi in pianura, addirittura a 25 gradi sulla costa, temperature da piena estate, insomma in pochi giorni sono risalite in maniera anche di sopra della media. Ci sono stati dei rovesci nella notte, qualche locale temporale, un po' di variabilità ci accompagnerà nella giornata di oggi, ancora caldo, però saranno possibili dei temporali, soprattutto nel pomeriggio, nella serata, temporali che sono più probabili sulla zona prealpina, ma potrebbero poi interessare anche la pianura, invece più marginalmente la costa. È caldo, anche oggi continua a esserci caldo, temperature decisamente sopra i 30 gradi anche nelle ore centrali della giornata. Per quanto riguarda domani, condizioni simili, di base un cielo tra poco nuvoloso, localmente variabile, sempre possibili i temporali, specie nel pomeriggio sera. Più secco, più stabile, il tempo dovrebbe essere giovedì e venerdì, con un'atmosfera più secca, quindi meno umidità e meno probabilità di temporali, quindi giornate più soleggiate e sempre con temperature ormai da piena estate.